Sì, siamo arrivati alla settima edizione, quindi quando si va avanti sempre in maniera così solerte e le edizioni cominciano ad essere tante, vuol dire che le manifestazioni ha successo. Vividi Teco mette a disposizione i suoi portici a tutti i comuni della Valla Rocia, a tutte le aziende della Valla Rocia per poter permettere a chi vorrà visitarci di trovare tutte le cose e le eccellenze di questa valle molto particolare a cavallo fra Piemonte e Liguria, eccellenze alimentari, eccellenze antigianali e tutto quello che sono i prodotti dell'ingegno e dei nostri cittadini. Quindi vi aspettiamo il 6, il 7, l'8 a Piemonte di Teco, sapendo che ci sono anche tante manifestazioni collaterali, dalla palestra di roccia degli alpini al torneo di petanque nel campo sportivo e a tanti altri eventi collaterali, per fare di Piemonte di Teco non solo il centro della Valla Rocia, ma un po' anche il centro della provincia d'Imperia per questi tre giorni.